Al Parco degli Dei di Roccella Ionica, Astro Libro edizione 2024 con l'anteprima del libro di Antonella Jasky, Woody Allen sa attendere, a dialogare con l'autrice e l'assessore alla cultura Rossella Scherl. Woody Allen sa attendere è la storia di sette donne, inizia con un viaggio tra una madre e una figlia e si protrae nel tempo fino a una tavola grande, a uno spazio dove sette donne che hanno sette percorsi di vita diversa si ritrovano per arrivare alla vecchiaia insieme. È legato a una profezia africana che le vede unite in un bracciale di sette conchiglie e racconta di donne italiane, di donne migranti e anche dei loro compagni. Durante la serata la mostra fotografica dal titolo Le Meraviglie del Cosmo con immagini riprese con i telescopi dell'osservatorio La Macchina del Tempo di Bruno Monteleone. La Macchina del Tempo oggi mostra fotografica e un piccolo osservatorio amatoriale privato di proprietà di Bruno Monteleone, sito nella frazione del comune di Ardore. L'osservatorio astronomico La Macchina del Tempo, oltre all'attività di astrofotografia, fa anche ricerca. Grazie infatti alla collaborazione con gruppi internazionali, svolge fotometria di asteroidi per fornire i dati al Minor Planet Center. Da quest'anno Bruno Monteleone propone una mostra fotografica itinerante con le foto fatte con i telescopi dell'osservatorio.